Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti cambi di cultura, di civiltà, di sviluppo, non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo il vivo. Oggi, così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore, così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra, è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, di inclore, cominciare con chi l'uomo, permettete a Cristo di parlare all'uomo, solo lui, a parole di vita, sì, di vita eterna. All'unomo, tu è la sua vita, tu è la sua vita, all'uomo, all'uomo. All'unomo, tu è la sua vita, all'uomo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.